Dopo tre legislature finalmente la legge sui piccoli comuni è una realtà. Lega Ambiente si è molto adoperata perché si raggiungesse questo risultato. In che cosa consiste? Ne parliamo con Stefano Ciafani, direttore generale di Lega Ambiente. È una legge frutto di un lavoro lungo della nostra associazione. Ci abbiamo impiegato 16 anni dal lancio di questa suggestione quando iniziamo la campagna sui piccoli comuni, sulla piccola Grande Italia, come abbiamo sempre detto, e con le varie dizioni di Voler Bene all'Italia abbiamo accompagnato l'iter tortuoso di questa legge che finalmente in questa legislatura è stata approvata. Questa è una seconda norma importante dopo quella sugli ecoreati che riusciamo a far approvare dal Parlamento italiano con un voto sostanzialmente trasversale. Primo firmatario Hermetti Araracci, c'è un altro disegno di legge del Movimento 5 Stelle che è stato poi unificato al disegno di legge di Hermetti Araracci e è una norma che permette di far diventare i piccoli comuni non più patrimonio da presepe, qualcosa da utelare perché è bello. No, è una legge che vuole sviluppare anche le attività economiche nei piccoli comuni che sono stati negli anni il motore dell'innovazione nel nostro paese perché le raccolte differenziate domiciliari con altissime percentuali sono partite dai piccoli comuni i piccoli comuni si sono anche distinti ad esempio per la promozione da fonti rinnovabili però il problema dello spopolamento di questi territori è stato un problema che non si è riuscito a frenare, ad arrestare nonostante il lavoro culturale fatto in questi anni la legge permette di mettere in campo una serie di strumenti anche economici che vanno nella direzione della promozione dei servizi che permettono ad esempio di poter utilizzare servizi pubblici a partire dagli uffici postali in luoghi che ovviamente non ne avevano c'è una serie di incentivi e risorse per promuovere anche l'innovazione nei piccoli comuni come ad esempio la diffusione della banda larga e poi una serie di strumenti che permettono di frenare e gestire i problemi dei piccoli comuni e delle aree interne mi riferisco al rischio idrogeologico, mi riferisco alla manutenzione delle strade insomma tutte quelle azioni che sono fondamentali per rendere sempre più apputibili i piccoli comuni fino ad oggi questo non era possibile con la legge finalmente questo sarà realtà bisognerà far conoscere adesso la legge in tutte le aree marginali del paese per fare in modo che in tutti i piccoli comuni si utilizzi al meglio il nuovo strumento messo in campo dalla legge sui piccoli comuni e questo sarà un compito che il legge ambiente continuerà a svolgere dopo finalmente l'approvazione della legge grazie a tutti grazie a tutti